bella ragazzi e bentornati in un nuovo episodio su red dead redemption 2 guardate qua che atmosfera e spero davvero che vi piacciono i video appunto che sto facendo e dove oltre a darvi magari dei consigli a spieghervi qualcosa vi faccio vedere anche un po la grafica e l'atmosfera che c'è in questo gioco comunque partiamo subito un tesoro quando vedete queste icone delle persone sconosciute ragazzi andateci a parlare perché si trovano veramente persone ingombranti nel senso che sono veramente spettacolari e ognuna di loro ha qualcosa di speciale da dirvi soprattutto questa che in molti snobbano per paura che ci sia magari una mappa falsa ma in realtà la mappa è buonissima mentre qui facciamo la conoscenza di maximo vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale per vedere altre guide e suggerimenti sul mondo di red dead redemption 2 che cosa è il problema? problema? no, non c'è problema al contrario beh beh there è un problema per me ma non per voi ok non ho l'attimo tempo no 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 wait mi un minuto di vita potrebbe potremmo cambiarla stentate sicuramente potremmo che ii mai benissimo cristobal valdespino il instrumento nazorale non posso dire che ho C'è stato molto scritto per me. Ho avuto una tina con il Viceroy dell'India. Ho aiutato a liberare Sud America. Ho scoperto i montaggi, e ho scoperto le sceglie. Ho avuto molte donne. Ho avuto i ultimi tre mesi città a la fronte dell'America. Un bel paese mi ricorda di Almeria. Ma avuto i set sail per l'islanda di Shikoku in l'archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Ha! Well, rumor has it. They buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... Ten dollars. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. A very wise investment. A very wise investment. A very wise investment. I will invest the one. E perché la dobbiamo acquistare? Perché ragazzi troveremo il tesoro della banda di Jack Hall e lo troveremo ragazzi, lo troveremo. Il tesoro della banda di Jack Hall. Se hanno fatto una mappa con altre due mappe vuol dire che il tesoro è abbastanza buono. Proviamo a capire che tesoro è, andiamo a capire che cosa troveremo. Apriamo questa mappa e vediamo praticamente una città in basso a sinistra, due rocce a punta a destra e un passo sulla montagna. Quindi dovremo andare lateralmente su una montagna, come possiamo vedere in questo momento. Guardate, adesso torniamo su e bisogna andare lì. Ovviamente qua il cavallo è un po' sporco perché c'è stata anche della caccia intanto, ma eccoci qui alle due rocce. E quindi devo stare sul lato di questa montagna che ho di fianco. Devo andargli proprio lateralmente e quindi ci deve essere un passo, magari anche ripido, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma come potete vedere è laterale e quindi siamo a Caliban City, ma poi vi farò vedere bene l'intera mappa. Una volta capito dov'è, bisogna salire appunto sopra la montagna. Davanti devo avere quelle due rocce a punta, però a noi non interessa questo. Vi faccio vedere bene il passaggio perché poi molte volte ci si perde, ma bisogna superare tutti questi alberi. Quindi continuare a salire sulla montagna sempre in direzione delle due rocce a punta e poi, ragazzi, buttarsi completamente giù a destra, dove c'è appunto il passo e quindi stiamo andando lateralmente alla montagna, proprio come indicato sulla mappa. Dopo una breve camminata ci si accorge che qui o si salta o si salta e non vi consiglio di farlo da fermi. Ecco qui, qui abbiamo incontrato l'uomo e poi abbiamo fatto un po' di strada per arrivare a Caliban City, quindi non è tantissimo. Una bella rincorsa e via. Vi direi anche di fare attenzione subito dopo questa roccia perché si cade, ragazzi. Se vedete che il vostro personaggio scivola, schiacciate subito il quadrato per appendervi. Può essere importante. Proprio come in questo caso. Arrivato qui mi aspetto qualcosa, ma in realtà c'è solo un'altra mappa. Perfetto. Anche una collana però, eh. Comunque adesso andiamo a vedere la prossima tappa. e i geyser. Ragazzi, i geyser ci sono già stato e mi ricordo benissimo dove sono. In realtà no, perché poi sono andato a vedere un'altra zona e non mi ricordavo benissimo appunto... Vedete Valentine? Non mi ricordo se erano appunto qui dove sto indicando adesso. Oppure, oppure, ragazzi, in alto. Ci sono due zone che andremo a vedere. Che andrò a vedere. Sia Dakota River che Cotorra Springs. Ma penso proprio che farò la figura di cacca. Perché non sono a Dakota, ragazzi. Sono a Cotorra Springs. Però le sono andate a vedere entrambe. Giusto per essere sicuro. Prima sono andato a vedere Dakota che era più vicino. E adesso vado a Cotorra Springs. E come potete vedere, ecco qua i geyser. E gli facciamo fare una bella lavata al cavallo. Vai, bello. Oh, pulisciti un po' che non ho nessuna intenzione di spazzolarti. Ok. E... Quasi quasi. A vedere l'acqua di questo colore... E ne voglia di tuffarmi. Ma sì, ma baffan brother. Mi tuffo anch'io. Ah. Ricapitolando. Vicino ai geyser trovate questi cumuli di roccia. All'interno di uno vedete che c'è una specie di rombo. Quindi i tre geyser davanti. E questo che fa l'ennesima punta del nostro rombo. E all'interno c'è... Fa benissimo Arthur a lamentarsi. C'è un'altra mappa ancora. Il nostro Maximo aveva detto che erano due le mappe, non tre. Però un grande lago con un albero al centro. E come possiamo vedere, dopo una bella cavalcata, ma neanche tanto distanti l'uno dall'altro i punti, eccoli in fondo il nostro albero in mezzo al lago. Ecco qui. Da Cotorra siamo passati proprio qua. In mezzo alla N e la O. Da Cotorra. N e O. Attenzione perché una volta saliti nell'isoletta dell'albero non si nota bene quello che bisogna fare. Cioè non c'è nulla. A parte quella roccettina un po' strana. Ma non si nota tantissimo ragazzi. Arrivati lì ve lo posso assicurare. Una volta alzata la roccia, cosa si trova all'interno? Due, ragazzi, due lingotti d'oro. Ovviamente, ragazzi, non bisogna andare in un emporio a venderli. Bisogna andare da un ricettatore. Perché sono tutte cose strane come i denti d'oro che troviamo, cose rubate. Bisogna andare da un ricettatore che prende anche le merci, tra virgolette, illegali. E quindi anche i denti d'oro. Qualsiasi cosa abbiamo preso, una volta aperto il menu del negoziante, vedete, orologi rubati, collane, anelli, tutto quello che appunto abbiamo anche frugato. E, una volta venduto tutto, arrivo anche a 100 dollari. Manca la collana, 102, e ora non ci resta che intascare 1000 dollari dai nostri lingotti che valgono 500 l'uno. Ragazzi, come al solito, grazie per aver visto questo video. Iscrivetevi se volete vedere altre guide, suggerimenti, consigli, cazzeggio su Red Dead Redemption 2. Fatemi sapere se vi è servita e se seguirete appunto le mappe. Un bacione, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Bella! ZLAFKI!